Signora ha qualcosa da dichiarare? Nulla agenti, ha risposto un'anziana passeggera del treno al valico ferroviario di Chiasso, ma i toni della risposta e l'atteggiamento della signora hanno insospettito i finanzieri che hanno trovato nella borsetta della donna contanti per 66.000 franchi svizzeri. L'episodio risala ieri. I militari della Guardia di Finanza in servizio alla dogana ferroviaria di Chiasso hanno controllato una ottantenne di origine italiana domiciliata in Svizzera. L'anziana ha detto di non aver nulla da dichiarare, ma il suo atteggiamento, secondo i militari, era sospetto. La donna è stata quindi invitata a scendere dal treno per proseguire il controllo negli uffici della dogana di Chiasso. Nella borsetta della signora ottantenne i finanzieri hanno trovato tre buste contenenti mazzette di banconote per un totale di 66.000 franchi svizzeri, pari a circa 54.000 euro. Come previsto dalla legge, finanzieri e funzionari della dogana hanno sequestrato il 50% del denaro trasportato illecitamente, ossia la cifra uguale o superiore ai 10.000 euro. Toccherà ora al Ministero dell'Economia e delle Finanze stabilire la sanzione da applicare, pari a una cifra compresa tra il 30 e il 50% della somma irregolarmente trasportata.